È una rivista annuale denominata Sguardi, giunta alla settima pubblicazione, che propone articoli scritti da docenti o ex-docenti del liceo scientifico Torelli di Fano. L'iniziativa culturale, che spazia dall'argomento umanistico a quello scientifico, oltre che dall'istituto scolastico, è stata realizzata con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Infatti, stamattina, nella sala riunioni della filiale di Piazza 20 Settembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione. Anche quest'anno il contributo di un artista locale, le cui immagini costituiscono la copertina e le immagini che accompagnano i singoli articoli, Giovanni Gagliardi di Cartoceto, che ringraziamo. La conferenza è stata anche un'occasione per presentare una nuova iniziativa del liceo, dal titolo Quattro letture e quattro incontri, che avrà luogo alla Mediateca Montanari Memo da gennaio ad aprile prossimo. Riusciamo a mettere in piedi quattro libri che presenteremo pubblicamente presso la Memo. Sono quattro libri di autori, in parte locali e in parte no, romanzi o saggistica. Cominceremo giovedì 22 con un romanzo che è un certo successo di pubblico, che si intitola La ricchezza nei ripozzi editore Marco Montemarano. Poi proseguiremo presentando nel corso di gennaio, febbraio e marzo altri libri. Il libro ultimo volume saggistico di Paolo Bonetti, dedicato al liberalismo. L'ultimo libro di Pierluigi Battista, dedicato al rogo dei libri, libri che si bruciano, tema di significativa attualità anche oggi. Per concludere poi con l'ultimo romanzo di una scrittrice di successo, che è Paola Mastrocola, che in aprile presenterà il suo ultimo romanzo. Presente questa mattina anche il presidente della BCC di Fano, l'istituto di credito che ha finanziato anche quest'anno la pubblicazione della rivista. Un bel strumento importante per conoscere meglio la realtà del nostro territorio. In questo senso quindi la banca di credito cooperativo continua a sostenere l'iniziativa e come d'altra parte anche le altre attività del liceo scientifico, che riguardano anche la presentazione di una serie di libri. Credo che queste qui siano tutte attività meritorie. E qui dobbiamo ringraziare sicuramente il dirigente Samuel Giombi, un lavoro importante che abbiamo ritenuto di sostenere.